Ciao a tutti, siamo ospiti del poliambulatorio medico specialistico Community Health Care a Mola di Bari in Puglia e accanto a me dottoressa Isabella Dattoma, psicologo-psicoterapeuta. Sei che di oggi è il disturbo di panico ed infatti se ne sente spesso parlare. Ma che cos'è il disturbo di panico, dottoressa? Salve a tutti i telespettatori di Sei che Web TV. Il disturbo di panico che cos'è? Il disturbo di panico fa parte dei disturbi d'ansia. Fra questi per esempio ci sono il disturbo d'ansia generalizzato, piuttosto che il disturbo fobico, piuttosto che il disturbo da fobia sociale o il disturbo ossessivo compulsivo. Fra questi disturbi c'è anche il disturbo di panico, che in passato veniva definito disturbo da attacchi di panico. In realtà il disturbo di panico è proprio costituito da una serie di attacchi di panico che il soggetto sperimenta. Ma vi devo anche raccontare una curiosità, e cioè che panico deriva dal dio Pan, perché nella mitologia il dio Pan era un dio metà caprino, metà capra e metà uomo. E amava andare a disturbare le ninfe che giocavano nei boschi, perché era il dio dei boschi e dei pascoli, terrorizzandole con il suo aspetto terribile. Per cui con disturbo di panico si intende un disturbo che effettivamente ha questa caratteristica di arrivare improvvisamente in un soggetto, in un individuo, e creargli una situazione di ansia così forte, così violenta, così improvvisa, così inaspettata, che il soggetto arriva a temere di impazzire, o addirittura pensa di morire. E questa è proprio una delle caratteristiche che ha questo disturbo di panico. Se vi dovessi elencare i sintomi che sono più ricorrenti, devo dire che è presente tachicardia, quindi una palpitazione del cuore molto accelerata, piuttosto che un senso di peso, di soffocamento sul petto, una difficoltà a respirare, un senso di soffocamento, delle vertigini, un senso di sbandamento, mancamento di equilibrio, mancanza di equilibrio, disturbi addominali, nausea, tremori, e poi il soggetto sperimenta veramente la sensazione di perdere il controllo della situazione, la perdita di controllo, insieme a quei due sintomi di cui parlavo precedentemente, cioè la paura di impazzire o la paura di morire, ma altri due sintomi ancora molto spesso presenti nel disturbo di panico sono la cosiddetta depersonalizzazione e la derealizzazione, cioè il soggetto sperimenta una situazione stranissima, come di non riconoscere l'ambiente in cui si trova, oppure di non riconoscere parti del proprio corpo. Dottoressa, e quali sono le cause che lo scatenano? E poi anche le conseguenze? Ma le cause che possono scatenare degli attacchi di panico e poi successivamente un disturbo vero e proprio di panico possono essere diverse. Sicuramente il soggetto è sottoposto ad una situazione di grande stress. Una situazione di grande stress può essere una situazione di perdita magari di una persona cara, può essere una separazione, può essere un crollo finanziario, possono essere tante le cause. La cosa importante è che l'individuo ad un certo punto sperimenta come improvvisamente questa situazione di estrema fragilità fisica in cui inizia a sentirsi preda di un attacco, cioè dopo aver avuto il primo attacco il soggetto inizia ad avere il terrore, la paura di poter avere un secondo, un terzo attacco, perché il primo attacco è stato talmente forte, ha conosciuto per la prima volta un'ansia così improvvisa, così debilitante, che quindi vive nel continuo stato di apprezzione di poter avere un successivo attacco. Ma questo si verifica anche dopo aver avuto il secondo attacco, dopo aver avuto il terzo attacco, proprio perché, come vi raccontavo, l'attacco di panico è qualcosa di estremamente violento per un individuo. Ma mi piace molto la domanda su quali sono le conseguenze, perché sicuramente il soggetto si sente un soggetto vulnerabile, fragile, magari percepisce o ha paura di poter essere una persona malata, e comunque le sue azioni, la sua vita, il suo comportamento, dal punto di vista cognitivo, da tutti i punti di vista, cambia. Nel senso che vive continuamente nel terrore di star male ed inizia ad evitare, magari, ci sono degli individui che evitano sistematicamente degli ambienti, dei luoghi, dei posti dove l'attacco si potrebbe verificare e quei posti vengono evitati perché il soggetto ritiene di non poter avere l'aiuto di nessuno. Per cui ci sono degli attacchi di panico, o meglio, un disturbo di panico, che viene definito con agorafobia o senza agorafobia. Agora in latino significa in realtà piazza, quindi l'agorafobia dovrebbe essere la paura delle piazze. In realtà questo soggetto che ha disturbo di panico con agorafobia non ha paura delle piazze necessariamente, ha paura di tutti quei luoghi in cui potrebbe non essere disponibile l'aiuto di qualcuno che quindi lo possa sostenere in questi momenti in cui potrebbe arrivare l'attacco. Ma il disturbo di panico può anche essere senza agorafobia, per cui il soggetto sperimenta in più momenti, in più circostanze, questo arrivo improvviso dell'attacco di panico, con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato. Quanto dura un attacco di panico? È un disturbo che colpisce più gli uomini o le donne? L'attacco di panico può durare una ventina di minuti circa. Raggiunge il suo acme nel giro di pochissimi minuti. Ecco perché è caratterizzato da questo fatto di essere così improvviso e così violento subito. Dura massimo 20 minuti, mezz'ora, di certo, poi finisce e lascia però il soggetto quasi in una condizione di stordimento in qualche maniera. Chi ne è più soggetto? Dobbiamo dire che le donne sono più soggette ad avere l'attacco di panico. Pare che siano più predisposte le donne tre volte più degli uomini ad avere l'attacco di panico. Ma devo anche dire che l'attacco di panico è molto frequente anche nei giovani. Molti sono i giovani che hanno questo disturbo, che molti sono i soggetti che in genere giovani, adulti, che con questo disturbo si recano al pronto soccorso per essere curati. e certe volte pochi sono i soggetti che realmente decidono di curarsi in maniera definitiva. Dottoressa, e come si cura il disturbo di panico a questo punto? La cura elettiva per il disturbo di panico è la psicoterapia cognitivo-comportamentale. La psicoterapia cognitivo-comportamentale ha una serie di ragioni importanti per essere utilizzata. La prima è caratterizzata dal fatto che il disturbo si cura nel giro di pochissimo tempo e cioè il soggetto impara molto velocemente attraverso delle tecniche particolari tipiche della terapia cognitivo-comportamentale a gestire l'attacco in sé per sé. In più però viene valutato dal punto di vista cognitivo appunto quali sono i pensieri che vengono scatenati o che scatenano l'attacco di panico in sé stesso. Per cui si lavora molto su una rieducazione in qualche modo dell'individuo dal punto di vista cognitivo e dal punto di vista comportamentale affinché riesca ad affrontare questo attacco di panico in una maniera più consapevole al punto tale da riuscire a gestirlo. Quindi quella che noi consideravamo all'inizio come uno dei problemi più importanti che è la mancanza di controllo legata all'attacco di panico il soggetto diventa improvvisamente capace di controllarla. A questo viene aggiunta una forma di psicoeducazione per cui il soggetto impara a capire come funziona il proprio corpo come questa preoccupazione di impazzire non sia una paura reale ma come ci si può lavorare su questo e comprendere come funziona la nostra mente, come funziona il nostro corpo. Da psicoterapeuta ovviamente parlo della psicoterapia come terapia elettiva a fianco alcune volte all'utilizzo di alcuni psicofarmaci a cui non faccio cenno perché non fanno parte del mio bagaglio culturale. Ci sono gli psichiatri che possono anche dare delle indicazioni psicofarmacologiche affinché l'attacco di panico sia gestito e dalla terapia cognitivo-comportamentale dalla psicoterapia cognitivo-comportamentale e con il sostegno anche farmacologico e devo sottolineare come nello stesso bugiardino del farmaco viene riportato come l'efficacia del farmaco stesso risulti notevolmente maggiore nel momento in cui è associata a questo tipo di terapia cognitivo-comportamentale. Dottoressa, ma che cos'è il bugiardino? E poi si nasce già con l'attacco di panico? Nello slang medico effettivamente viene utilizzato spesso questo termine bugiardino ma con bugiardino si intende il foglietto illustrativo che è all'interno del farmaco che quindi ne descrive le proprietà, la posologia e quant'altro. Per quanto riguarda invece se si nasca o meno con un disturbo di attacchi di panico assolutamente non si nasce con un disturbo di attacchi di panico né si nasce con l'attacco di panico. L'attacco di panico si può apprendere all'interno del proprio contesto familiare laddove si vive con dei genitori particolarmente ansiucosi con dei genitori che abbiano una patologia di questo tipo ma in letteratura non ci sono ampi riscontri di questo tipo di fatto è una risposta individuale nel momento in cui una persona di fronte allo stress risponde in un certo modo il proprio organismo reagisce in qualche maniera allo stress c'è chi risponde con una condizione depressiva c'è chi risponde con una condizione ansiosa chi magari con un disturbo alimentare altri soggetti rispondono invece con un disturbo da panico quindi è un disturbo che si acquisisce diciamo che si potrebbe apprendere si acquisisce nel corso del tempo non ha delle componenti genetiche tanto che non deriva dai propri genitori e non ci arriva attraverso i geni dei nostri genitori ma è un disturbo che ad un certo punto della nostra vita anche in fase adolescenziale molto spesso accade in fase adolescenziale o nella tarda adolescenza questo disturbo può presentarsi bene ringraziamo dottoressa Isabella Dattoma psicologa psicoterapeuta che ci ha fatto conoscere che cos'è l'attacco di panico e il disturbo di panico ringraziamo anche il poliambulatorio medico specialistico community health care per averci ospitati grazie Valeria grazie per avermi ospitato su Saiche Web TV e per questo meraviglioso posto questo centro poliambulatorio che ho conosciuto qui a Mola di Bari grazie Saiche può interessare o coinvolgere anche te a Mola di Bari grazie